Ciao a tutti, sono Miriam Berette e mi sono laureata all'Università dell'Insubrio in Biotecnologie. Oggi sono una analista del controllo qualità in un'azienda farmaceutica. Le conoscenze acquisite a livello universitario sono state fondamentali per quanto riguarda la sfera lavorativa, sia quelle teoriche, poiché sono la base per poter comprendere e svolgere il proprio lavoro, ma soprattutto sono stati molto importanti i laboratori curricolari. Questi mi hanno permesso di capire in modo pratico ciò che veniva insegnato a livello teorico, ma soprattutto mi hanno dato le competenze basi di un laboratorio. Tutte queste conoscenze mi hanno aiutato in sede di colloqui lavorativi, dove sono comunque riuscita a destreggiarmi e mi hanno aiutato soprattutto per poter apprendere in modo più facile il lavoro che svolgo tutt'oggi.